ma vabbè poi poi me la dirò no no poi me la dirò poi me la dirò tu come va tu puoi perché lo sapete tutte e due anche di più perché stai ding dong ding dong noi abbiamo fatto pace ti ricordo del cappello del cappello del cappello del cappello si del cappello e allora e allora qui sono solo il direttore il masco d'indo tu ti dico bella a cinto barbacchia cinema dopo il palazzo pesame a lui accusta dove va e da tattino con te roba non mi manco mai che cazzo hai detto non si è capito niente ho detto mi raccomando dove vai e dove metti i piedi napoletano di che in italiano questa è già pronta addirittura è già pronta caro mio se vuoi che ti salvo se vuoi che io ti salvo è un saluto la carissima joe che cos'è questa cosa di joe questa cosa di joe è una cosa mia non ti preoccupare allora mi hai detto che vi state frequentando spiegami bene lei purtroppo non vuoi essere presa dal pupazzo spiegami bene chi è questa qua è una bellissima ragazza di dove è di giovinazzo sì però non ti dico il capoluogo dov'è che su dove vai metti male informazioni su di me per forza il capoluogo di giovinazzo è il capoluogo di giovinazzo sì però non ti dico dov'è che me l'ha già detto dov'è quasi quanti anni ha è più piccola di me di età quanti anni ha è maggiorenne se abbastanza che vuol dire abbastanza maggiorenne c'ha 25 anni la ragazza eppure di più può essere tua figlia che cazzo devi fare con la 25 anni l'età l'ho sbagliata mi sembra che dice 49 anni che mi ha detto lì a me ma la prima volta mi sono la 25 mi sono sbagliata giocati di lambo acqua d'aboccio faccio allenarlo faccio 15 a 40 e 35 e 35 una cosa che sai tu non è il civico di lei non è il civico mio faccio 35 45 95 allora da 90 non mettiamo 95 allora faccio un po' sbagliata che fa nella vita questa gio? e questo è una os se non l'hai capito e sta insomma sta come dico io è croccante? molto croccante sì avete già iniziato a parlarvi o solo messaggi? no ci paghiamo pure ci paghiamo non ti preoccupare e cosa le dici? e parecchie cose molto buone belle di dolcezza come gliele dici come gliele dici? abbastanza bene per esempio fammi un esempio che l'esempio ti devo fare? io sono Gio fammi un esempio no non ti faccio a me mi sembra la donna per fare l'esempio come dici tu non il maschietto anche tu pensi che mi sembra qualche papazzo che papazzo non sa che i papazzi insieme al diomo e ti ha più scramma no dai no dai no dai eh e di asparangarmi e di asparangarmi che calabro allora scegli che dalla piccolina o il più grande è il calabro il calabro lucano calabro lucano calabro lucano come ti presenti a te lì non dico cosa fa è proprio una dà co e tu puh up a cut belio tutto sistemato insieme, tutto sistemato in puta pressa Quando? Quando? Tu sali di palo in frasca. Perché lui quando lascia a te, il ragazzo dove va? Per il verbo di un cicchetto, si prende il cicchetto che è molto buono a pomo con il gappo. Il cicchetto. Allora, che cosa fa nella vita? Hai detto la ossa? Sì. Dove? Non lo so dove. Poi ho capito dov'è, però mai te lo dirò. Ma lei sa che tu la chiami? Sì, lo sa che la chiami. Come Valentina. O è come Valentina? No, non è come dici te. C'è pure qua il numero suo, però tu non lo hai. E fai una chiamata davanti a me? No, no, non mi rispondi. No, non ti rispondi, chi è me? Che tu puoi mettere malinformazione? No, no, è meglio che questo qua lo metto a farla. Lello, io ti tengo sotto controllo. Poi io ti tengo sotto controllo a te. Lello, io ti tengo sotto controllo. Poi io ti tengo sotto controllo. Non stai troppo vicino. Ma raccomando, ma raccomando a te, voglio. Che chi non lo scherzano? È tutto nostro. È tutto nostro. C'è la ponte, perché siamo in Apulitana. Ma se la vengo a Ponnopoli, a me le facciamo rimovi il boom. Dalle belle ragazze. Andiamo di nuovo a fare visita. Vuoi sapere dove ti mando io? Allora. Ma fa la c***a. È un po' chi è a te, ehi. Tu sei una persona, non da rinchiudere. Da rinchiudere buttando via la chiara. Poi vai a scettare la c***a. E ride come una, ride come un... Perché questo è l'abuso che gli dai tu. Io. Questo è l'abuso che tu gli dai. Ma questo è l'abuso che do a te. No, a me non mi dai l'abuso. Vedi come... Vedi come... Vedi come... Vedi come... Vedi che sono io. Guarda la malaprenda di un po' alto. Saluta a Gio. Dai, una dichiarazione a Gio. No, Gio. Chiamami quando vuoi tu, bella Gio. E poi, palese, mi raccomando, palese. Che mi ha fatto tu a Gio. Palese o giovinazzo? Prima è palese, poi ben giovinazzo. Giovinazzo per palese. E entrambi. Gio, ti prego. Se sai che Lello ti parla... Se esisti. Se esisti, contattaci. In privato, in maniera riservata. No, non ci sono nessuno in contatto. A te non ti va a contatto a te, po'. E a me che se la va a vedere, non a te. E a me. Dove mi piace, possiamo andare a prendere. Allora, dove hai detto tu, i due curriculum che mi servono per piacere. Lo ho detto io. Dove hai detto tu? A me che sento, sì. C'è da c'è a doladare. C'è da c'è a fare. No, ma se, ma se, perché mi servono a me. Non si può. È una cosa che mi voglio dare io. Una soddisfazione che mi voglio dare io personalmente. Ma il curriculum lo dobbiamo fare noi due. No, no. Non si va a prendere da là. Ce lo sappiamo chi è fatto nella vita di lui. Ce lo sappiamo, ce lo racconto tutti. C'è le vecchie cose. Allora, la prossima volta porto il computer e facciamo il curriculum. Ah, sei sicuro? Sì, sicuro. Dobbiamo andare a Via Crissangio sopra. Ti faccio il curriculum e lo stampi e così lo puoi dare a chi vuoi. Me ne servono due. A chi devi dare? Allora, so io a chi le devo dare. Sono due persone. Se non vengo a... A propos che le le fanno a te. Vedi che io c'ho anche quelle beltine a vista. Se non mi dici a chi sono, io non ti faccio il curriculum. No, mi serve il curriculum perché lo devo dare a due persone. Dobbiamo andare insieme a noi cattolo. Che cosa è? E poi dove lo dobbiamo dare? Che cosa è? E poi mi servono a me. Mi servono a me. E detto. E dopo di... Ma, una cosa di tutto. con un mulatto due belle cose ora verrà un altro pure di di bare e mi è meglio tu vaschiamo te lo do il curriculum ma mi piace arriviamo a fare il curriculum andiamo il curriculum è una cosa seria non serve